Grazie. Il momento che vi presenterò quest'oggi ha due obiettivi principali. Da un lato quello di fornire le coordinate della vitalità sociolinguistica del franco-provenzale nel nord-ovest d'Italia. Dall'altro lato quella di riflettere sugli esiti del contatto fra il franco-provenzale e un dialetto italo-romanzo, il piemontese. Incomincio quindi con alcune considerazioni sulla vitalità. Partendo da una valutazione altimetrica. L'altitudine media dei centri franco-provenzalofoni è in Piemonte di quasi 750 metri sul livello del mare. In Valle d'Aosta di più di 950 metri. Se dunque applicassimo questi due territori, l'ipotesi di Telmoni, in base alla quale più a monte si trova un villaggio, più forte ne sarà lo spopolamento, maggiore il grado di minaccia subito dalla lingua locale, dovremmo concludere che la salute del patois sia peggiore in Valle d'Aosta che non in Piemonte. In realtà, qualora impiegassimo per caratterizzare i due contesti sociolinguistici i parametri individuati da Lee e Van Wey 2016, otterremmo un quadro ribaltato con il franco-provenzale piemontese in condizioni decisamente più critiche rispetto al franco-provenzale valdostano. La scala proposta da Lee e Van Wey prevede sei criteri di pesatura da applicarsi a ciascuno dei quattro fattori considerati, ovvero trasmissione intergenerazionale, numero assoluto di parlanti, tendenze nel numero di parlanti, domini d'uso. Il Language Endagement Index, abbreviato lei, si calcola sommando i punteggi attribuiti alla lingua in oggetto, quello relativo alla trasmissione intergenerazionale vale doppio, data l'assoluta centralità del parametro, dividendo la cifra ottenuta per il punteggio massimo totalizzabile, pari a 25, e moltiplicando infine il quoziente per 100. È più difficile da spiegare che da fare. Si avrà così una percentuale da collocarsi entro una delle fasce individuate da Lee e Van Wey. Dal calcolo del lei relativo alle due varietà di franco-provenzale, si ricavano quadri nettamente distinti. Quello di una forte compromissione per il franco-provenzale piemontese, la percentuale del 60% si colloca ancora nella fascia delle lingue in pericolo, ma confina con quella 61-80% delle lingue seriamente in pericolo. È quello invece di una discreta vitalità per il franco-provenzale valdostano, benché anche in questo caso la percentuale ottenuta, 20%, si situi al limite basso della fascia vulnerabile, adiacente alla fascia 21-40% delle lingue già considerate minacciate. Come si spiega l'eccezione del franco-provenzale rispetto alla linea di tendenza individuata da Tullio Telmon, che sembra ad esempio funzionare molto bene per l'area occitanofona del Piemonte? E lo stesso Telmon, 1997, a offrirci una possibile risposta, quando osserva che il franco-provenzale piemontese e il franco-provenzale valdostano, fino alla Seconda Guerra Mondiale, parevano essere pienamente coinvolti nelle dinamiche di abbandono linguistico che caratterizzavano in generale l'area alpina. l'area franco... scusate, che caratterizzavano in generale l'area alpina. Il punto di svolta giunse nel secondo dopoguerra con il riconoscimento del Statuto Speciale alla Valle d'Aosta. Da quel momento politiche economiche indirizzate soprattutto alle aree più deboli contribuirono a incrementare le attività agricole e industriali, nonché il turismo, in modo tale da arginare l'immigrazione dalla montagna verso la pianura. ma nulla di tutto ciò è invece avvenuto in Piemonte. La differente vitalità del franco-provenzale valdostano è dunque uno dei prodotti della mutata situazione socio-economica della regione autonoma, gradualmente delineatosi a partire dal 1948. Le due aree franco-provenzalofone, che ho descritto, consentono di riflettere su un particolare tipo di contatto linguistico in quanto coinvolgente due lingue minores, il piemontese e il franco-provenzale. Un caso unico nell'area franco-provenzalofona che vede fronteggiarsi al di là delle Alpi, patois e francese. È necessario però precisare che il grado di minorità di una lingua può essere differente, a seconda del contesto sociolinguistico in cui viene praticata. Il piemontese, nella sua varietà di coine a base torinese, ha svolto per secoli, a partire dal Settecento e fino almeno alla metà del Novecento, un importante ruolo di langue véhiculaire, tra parlanti di aree diverse del Piemonte. e a tale varietà era inoltre associato un indubbio prestigio, essendo stata la lingua della corte e della nobiltà capace di irradiarsi nei centri medi del contado e da questi ai centri più piccoli, riproducendo alla perfezione il modello gravitazionale di diffusione delle innovazioni alla Chambers e Tragil 1998. Non stupisce dunque che anche nelle valli del Piemonte occidentale linguisticamente Gallo-Romanze sia penetrato il piemontese e che all'interno del repertorio abbia assunto una posizione intermedia tra il Codice Alto, l'italiano, e il Codice Basso, il patois locale, come si confà alle cosiddette lingue medie individuate da Mugliacic 1997. È significativo, per quanto riguarda l'area franco-provenzalofona del Piemonte, che gli intervistati dell'inchiesta dell'IRES all'asino etali 2007, abbiano dichiarato per il 59,8% di avere come prima lingua locale, ovvero come lingua locale che ritengono di possedere meglio il piemontese, di contro al 29,3% che attribuisce questa qualifica al patois. Occorre poi considerare che nelle valli del Piemonte occidentale, poste a nord della Valle di Susa, la varietà di piemontese posta a contatto con il franco-provenzale era sostanzialmente di tipo canavesano. Grassi ha infatti messo in luce che prima della Seconda Guerra Mondiale la conoscenza del dialetto regionale a base torinese era nel canavese di tipo passivo, essendovi praticati soltanto la varietà locale di piemontese e in misura da ritenersi allora piuttosto ridotta l'italiano. Ciò che spiega anche la straordinaria resistenza del canavesano nei confronti della varietà di Torino, oltretutto geograficamente molto prossima. Per la Valle di Susa e la Val Sangone, le due propaggini meridionali del dominio franco-provenzale del Piemonte, la varietà di contatto era invece costituita dal torinese o dalle varietà fortemente torinesizzate della pianura adiacente. Differenti e più complesse sono state invece le modalità di azione del piemontese in Valle d'Aosta, con la duplice presenza della varietà canavesana confinante e del torinese. L'apice dell'influsso del piemontese in territorio valdostano si raggiunse probabilmente alla fine del XIX secolo, quando, stanto al quadro offerto dall'abate Serlogn, esso costituiva una serie minaccia per la sopravvivenza del patois. È opportuno infatti ricordare che dall'approvazione della legge Rattazzi 1859 al 1927, la Valle d'Aosta ricadde sotto la giurisdizione di Torino, situazione che favorì grandemente la diffusione del piemontese torinese, soprattutto a opera di funzionari amministrativi inviati da Torino ad Aosta. L'avvento del fascismo e della sua politica linguistica ostile a qualsiasi lingua che non fosse l'italiano, segnò una battuta d'arresto nella diffusione del piemontese, ma anche nell'uso del patois e del francese. Tuttavia, se questi ultimi due codici ripresero a essere praticati all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, il franco-provenzale in quanto lingua nativa, il francese in quanto lingua istituzionale allo stesso livello dell'italiano, la sorta del piemontese non mutò di segno. E alla fine degli anni 50 del Novecento, come fa notare Keller nel 1959, uno dei pochi contesti in cui ancora sopravviveva l'uso del piemontese era quello dei mercati di bestiame. Da un'inchiesta della fondazione Shanu dei primi anni 2000, risulta che soltanto il 10,83% dei valdostani afferma di parlare bene il piemontese. Più positivi i dati circa la competenza passiva, che si attestano sul 43,82% di dichiarazioni. Il lessico è forse il settore più delicato per stabilire l'influsso reale del piemontese sul franco-provenzale e viceversa. Talvolta la fonetica può essere d'aiuto nel derimere l'esistenza e la direzionalità del contatto linguistico. Raimondi 2014 osserva, per esempio, che in alcuni centri della bassa valle d'Aosta i continuatori di Capulare, Clappare e Pacottum Paclocum manifestano un aspetto formale, Ciappà e rispettivamente Pacioc, inatteso rispetto alla naturale evoluzione fonetica. Tale deviazione rispetto agli sviluppi fonetici attesi e da Raimondi interpretata come il flutto dell'azione delle voci piemontesi Ciappè e Pacioc, probabilmente rafforzata dalla presenza nell'alta valle delle forme coetimologiche H.P. e Paco. Che esista una contrapposizione lessicale abbastanza chiara fra la bassa valle e l'alta valle è stato posto in evidenza in vari studi per R.O.M. 1995 e Favre 2002, da cui traggo la tabella che vedete con qualche modifica. In particolare si è sottolineato l'orientamento italo-romanzo della bassa valle di contro al carattere più schiettamente gallo-romanzo e dunque conservativo dell'alta valle. Dal punto di vista metodologico sarebbe certamente errato considerare ogni elemento lessicale di matrice italo-romanza, piemontese e o italiana come un prestito da una delle due lingue. La fonetica è di scarso aiuto per interpretare gli esempi riportati in tabella, se non forse nel caso di Amazè e Senota, che difficilmente potranno essere considerati prestiti adattati dal piemontese. Resta ad ogni modo vera la considerazione di Grassi, che afferma che il piemontese può talvolta aver avuto un ruolo nel preservare alcuni degli strati gallo-romanzi più antichi nell'attuale zona di contatto con la valle d'Aosta. Quanto all'influsso del franco-provenzale sul piemontese, Gebhardt, 1978, individua, a partire da uno spoglio del FEV, 48 casi di prestito. Benché tale cifra sia probabilmente troppo alta in considerazione del fatto che alcune delle parole citate da Gebhardt si interpretano meglio come prestiti dal francese, sono per esempio di origine franco-provenzale i termini arbenna, perrice bianca, chassil, telaio della finestra, getta, bardana, menagera, grembiule corto, mufflu, schiaffo, e ratela, trappola per topi. Se ci spostassimo dal livello dell'essico, ai livelli della fonetica e della morfologia, ci troveremmo non di rado di fronte a impasse non troppo dissimili da quelle poco sopraillustrate. Un esempio di interesse sul versante della fonetica può essere rappresentato dal fenomeno della progressione dell'accento, che può manifestarsi con o senza la caduta della vocale tonica, come in 1, na, e 2, luna per luna, ovviamente. L'area franco-provenzalofona del Piemonte manifesta il tipo 1 soltanto in Val Soana, mentre il tipo 2 occorre in Valle dell'Orco, nelle alte valli di Lanzo e in bassa valle di Susa. Nel tipo 1, nel tipo 2, a mia conoscenza, sono attestati in Valle d'Aosta. Il quadro è complicato dal fatto che la progressione dell'accento compare anche nella varietà canavesana di piemontese, come testimonia con ricca esemplificazione Rossebastiano Barth 1984. La qualcosa porta nuovamente a interrogarci sulla direzionalità del fenomeno, se cioè esso sia il frutto dell'influsso del franco-provenzale sul canavesano o del canavesano sul franco-provenzale. Alcune considerazioni relative alla diffusione geografica della progressione dell'accento possono esserci d'aiuto nell'affrontare la questione. In primo luogo dobbiamo considerare che la progressione dell'accento è anche attestata in una zona, quella della bassa valle di Susa, in cui il franco-provenzale non è a contatto con il canavesano. Lo stesso ragionamento può valere a forziori per l'ampia area di diffusione della progressione dell'accento in territorio transalpino. Si vedono a tal proposito Tuayon 1972-2007 che attribuiscono il tipo 1 all'area posta est di Ginevra e all'alta Savoia e il tipo 2 all'alta Moriana e a un'ampia zona intorno a Grenoble. Un'ultima evidenza negativa in questo caso è fornita dalla mancata occorrenza del tratto nel franco-provenzale della bassa valle d'Aosta che, come quello dei territori posti a nord di Susa, è a stretto contatto col canavesano. Sembrerebbe dunque, scusate, di poter concludere che la progressione dell'accento sia un fenomeno franco-provenzale mutuato dal canavesano anziché il contrario. Resta però vero che, come già si osservava per il lessico, il mantenimento del tratto nel franco-provenzale nelle valli del Piemonte nord-occidentale e nel canavesano può essere una questione di rinforzo reciproco. Esso si conserva nel franco-provenzale grazie alla presenza nel canavesano e viceversa. La progressione dell'accento sembra essere meno diffusa in valle di Susa che nelle valli settentrionali e non è forse casuale il fatto che la valle di Susa sia a contatto con una varietà di piemontese-torinese che non manifesta tale fenomeno. L'ossitonia generalizzata del francese può del resto essere una delle concause motivanti la resistenza della progressione dell'accento in area transalpina. E' indubbiamente dovuta all'azione congiunta di piemontese, italiano e francese la lenta erosione che sta subendo un tratto fonetico tipico dei patois sia occitani sia franco-provenzali della valle di Susa. L'affricativa dentale sonora R, continuatrice di L e R intervocali vedete qualche esempio albezò, pioppo, movì per morire sidogna per erba da porri, eccetera. Tale suono viene sempre più spesso sostituito nella parte alta della valle confinante con la Francia linguisticamente occitana dall'africativo ovulare R nella parte bassa della valle linguisticamente franco-provenzale dalla vibrante alveolare R introdotta dal piemontese e poi promossa anche dall'italiano. Veniamo ora alla morfologia. La desinenza della prima persona plurale del presente è nelle varietà galloromanze occitane e franco-provenzali di tipo N, N accentata oppure no. Le varietà di piemontese presentano come si vede in tabella piuttosto compattamente il tipo UMA nei verbi di prima coniugazione con la possibilità intaluneare della variante IMA nei verbi di seconda e terza coniugazione. È molto probabile che la desinenza UMA abbia avuto come centro il radiatore Torino a partire dal Settecento ma che pure a Torino il tratto fosse di origine esterna probabilmente importato da varietà periferiche nel crogiolo dialettale secentesco della capitale Sabauda. Prima del XVII secolo non ci sono attestazioni in Piemonte e a Torino di tale desinenza ma soltanto di EMA e varianti. I sermoni subalpini il documento più antico di area piemontese XII-XIII secolo anche se di attribuzione linguistica assai controversa presentano la desinenza M. Ci sarà notato come la compattezza delle varietà di piemontese sia interrotta soltanto dal canavesano che manifesta forme rizzotoniche di tipo N. Canten noi cantiamo. Ancora una volta ci si potrà domandare se la concomitanza di esiti fra franco-provenzale e canavesano sia scrivibile all'azione del primo sul secondo ovvero del secondo sul primo. Il fatto che il canavesano sia l'unica varietà di piemontese a presentare la desinenza M e che tale desinenza caratterizzi il complesso delle varietà galloromanze anche quelle che non si trovano a contatto col canavesano induce a credere che il tratto sia penetrato nel canavesano attraverso il franco-provenzale e non viceversa. E poi di indubbio interesse che le parlate canavesane manifestino la desinenza UMA all'esortativo a differenza delle parlate franco-provenzali che invece hanno univocamente N. Il che potrebbe essere interpretato come un esempio tanto di conservazione UMA quale residuo di piemontesità locale in un settore della lingua particolarmente interferito dal franco-provenzale presente abantico nell'area e indipendente dal modello diffuso dal torinese settecentesco quanto di innovazione UMA quale tratto di provenienza torinese che ha intaccato un microsistema precedentemente in toto franco-provenzaleggiante. all'azione del piemontese è dovuta all'attuale faces dei dimostrativi di prossimità nei patois franco-provenzali dell'alta valle dell'Orco ecco questo è lo schema fornito da Cerner 2002 poiché il gruppo consonantico ST è sconosciuto alle parlate dell'area in cui abbiamo Sela e Tesa come esiti di Stella e rispettivamente Testa Cerner 2002 afferma che i dimostrativi di prossimità sono stati mutuati dal canavesano il quale presenta le medesime forme il vecchio sistema di dimostrativi emerge in alcuni sintagmi fissi come SES-AGN quest'anno i pochi esempi che abbiamo discusso in questo intervento testimoniano la bidirezionalità del contatto fra piemontese e franco-provenzale pur in aree sociolinguisticamente molto differenti come abbiamo visto nella prima parte dell'intervento in particolare è emerso per ciascuno dei livelli considerati la tendenza al mantenimento di tratti che sono comuni ai due codici una questione di contact induced stability di stabilità indotta dal contatto in cui appunto è il contatto a porre un freno al cambiamento linguistico nelle parole di Kühl e Braunmüller 2014 tale stabilità indotta dal contatto agisce su due piani distinti in primo luogo abbiamo senz'altro il livello della presenza effettiva lungo i secoli di elementi simili o ampiamente confrontabili nei due codici è il caso per esempio della convergenza lessicale che spesso si osserva fra bassa valle d'aosta e area canavesano piemontese in secondo luogo possiamo avere una situazione di iniziale divergenza fra le due lingue che si annulla a seguito del passaggio di un tratto da un codice all'altro si vedono gli esempi della progressione dell'accento e della desinenza n trasferiti dal franco provenzale al canavesano l'annullamento delle divergenze crea una situazione di stabilità reale non dissimile da quella osservata per il lessico che ha preservato la piccola sprak bund franco provenzale canavesano dagli influssi di codici esterni forti quali fino a pochi decenni or sono il piemontese torinese e al momento attuale l'italiano ecco vi ringrazio per l'attenzione ecco questa è la bibliografia che ho utilizzato nel mio intervento grazie riccardo regis qualcuno ha delle questione vorrei solo io chiedere una precisazione poi leggerò l'articolo e così forse la lettura dell'articolo con più attenzione permetterà di capire questo particolare ma in casi di fenomeno linguistico che si riscontra in una zona di contatto con il piemontese o il canavesano e poi in una zona che non ha assolutamente contatto con queste con queste con queste forme quale prospettiva di risposta si può individuare ma se dunque io ho cercato nel caso in cui ci sia appunto concomitanza di occorrenza fra fenomeni di valutare appunto la presenza del fenomeno che ci interessa in varietà che non presentavano quello stesso tipo di contatto quindi questo a me è sembrato un'evidenza positiva del fatto che i fenomeni studiati potessero essere interpretati in direzione di un influsso del franco provenzale sul canavesano anziché nella direzione opposta ad esempio ritorno sul caso della progressione dell'accento noi troviamo appunto la progressione dell'accento in valle di Susa noi sappiamo che la valle di Susa è storicamente in contatto con varietà di tipo torinese che non presentano il fenomeno e quindi questo ci fa pensare che è anche l'occorrenza della progressione dell'accento in area transalpina ecco ci fa pensare che si tratti di un fenomeno appunto interno al franco provenzale che possa aver influito quindi sul canavesano è stato un po' questo il criterio certo non possiamo escludere la presenza diciamo abantico del tratto che quindi ci fosse magari un'area franco provenzalofona più estesa verso la pianura e che poi su questa area franco provenzalofona di cui si sono mantenuti alcuni tratti residui si sia sovrapposto un forte strato piemontese questa è un'altra possibile interpretazione un'altra a rapporto a formi franco-provenzale e ha analisi le point in common certains fenomeni linguistiche che abbiamo incontrato nel Piemontale, nel Canavaisan e nel franco-provenzale in cui si posa la question in quel senso si fa il passaggio di questo fenomeno e il fatto che ci sia delle zone completamente in dehorse del contacto con il Piemontale e il Canavaisan produzione un'altra serie di riflessioni che fa rinforzare l'hypothese che sia un fenomeno che va dal franco-provenzale verso il Piemontale e il Canavaisan o anche un substrato che subsiste in alcune parte del Canavaisan e del Piemontale e che laissono presagire che aveva una zona franco-provenzale più vasta in questa parte del domaine giusto? Grazie 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 Riccardo Regis Grazie Grazie Grazie